salve a tutti ragazzi bentornati in un nuovo video oggi siamo qui per elaborare una richiesta che è stata fatta per messaggio privato ovvero quella di disegnare un personaggio marvel su un foglio a4 con una matita 2b nessun'altra matita solo quella magari una penna bianca a gel per dargli tutto il luce quello facciamo a strappare la mente non vi spoilerò niente seguite il video fino alla fine scoprirete di chi si tratta buona visione ciao 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 bene ragazzi il video è concluso avete capito che si trattava di blackpool ho disegnato interamente bianco e nero ovviamente con la stessa matita spero che il risultato vi sia piaciuto vi avevi fatto compagnia per questi pochi minuti ci si verrà in un prossimo video bella guardate Grazie a tutti. Grazie a tutti.